Questo è Minecraft con i riflessi ultra super realistici e c'è proprio un'opzione che si chiama Ray Tracing che lo fa così e praticamente è una delle opzioni più nuove che ci sono Nelle tipo nuove schede video, quelle cose che servono per far andare i giochi Guardate qua ragazzi, io letteralmente sto guardando tutto dietro, vedete tutto l'orizzonte Wow che bello, è bellissimo, voglio continuare a vedere tutto, andremo a vedere anche i minerali e le cose più pazze che ci sono ed esistono sulla faccia della terra E ovviamente cercheremo chiaramente anche di più o meno giocare anche se non so se riuscirò a concentrarmi sul gioco Quando guardate qua che bello, mio dio voglio troppo vivere in questo mondo di Minecraft Ok perfetto, adesso usiamo questi blocchi così citati, vi faccio una bellissima crafting table e adesso andiamo in miniera a giocare così L'obiettivo sapete qual è? È andare a vedere come sono dei diamanti tutti quanti sluccicosi con questa bellissima texture No giuro, sarebbe strabello vederli, comunque qua è un po' strano devo dire E ovviamente, ah ci sono pure i bug grafici, bastard Scusate non volevo essere così sbarluccicoso Che cosa sto dicendo raga, scusatemi oggi, sono proprio fuori di testa ma perché questa cosa mi eccita Cioè questa texture dico mi eccita ovviamente, cioè nel senso mi fa sentire molto felice Non quello che pensavate voi, guardate si può vedere anche il sole addirittura Wow, no raga Ma no scusate ma guardate qua No ma cioè sembro pazzo io ma cioè nel senso Sembra fatto tutto di vetro, voglio vivere in questo mondo adesso, basta Vai prendo un po' di cobblestone, anzi vediamo anche come si vede la cobblestone Non sembra che sia lucente Però qua si che lo è, guardate Si vede anche il coal, no che bello Chissà adesso come si vedranno le torcia appena la metterò Ovviamente vi ricordo che ci sono altre di queste texture che vedremo fra poco E guardate questa, si vede guardate tutta quanta la luce è riflessissimo No che bello, voglio vedere anche il minerale adesso per forza Sappiamo che questo, cioè vedete che è proprio luccica ma magari sono pazzo io no Signora mucca le deve essere purtroppo sacrificata Mi dispiace davvero tanto ma ne ho avuto bisogno assolutamente Sapete cosa però mi fa un po' schifo? Il fatto è che io non mi vedo Perché il mio personaggio tecnicamente è fatto di materia no? Come? E ovviamente di materia visibile perché è un corpo Quindi perché io non riesco a specchiarmi se tutto quanto si specchia? Questo è il mistero della fisica Oppure di minecraft più che altro No raga scusate ma io non riuscirò mai a smettere di dire che è bellissimo Raga cercate di indovinare cosa sono questi puntini Sono dei riflessi giusto ma che riflessi sono eh? Guardate sembra un albero di Natale Oh mio dio che bello Allora a parte che è completamente buggata E adesso la modifichiamo un attimo e ne mettiamo anche un'altra per vedere se è meno buggata La lava aspetta che è un po' buggata anche lei poverina Però adesso Beh possiamo magari cercare di fare un'altra cosa Scusate se urlo ma Ok Oh mio dio guardate il tramonto Guardate Guardate qua che bello Oh mio dio Allora aspetta che devo però modificare un attimo Questa lava qua che è ancora rotta e non funziona Devo prendere delle torce Ma non sono mica in creativa Come sto facendo? Allora devo andare a prendere delle torce Dammi delle torce Torce Grazie mille signorino Allora adesso non vedo più niente però Ok Dai dovrebbe funzionare perché non funziona la lava Secondo me devo modificare la texture qua così impara Eh scusami eh perché non funziona un cavolo Raga i diamanti Ma allora vi immaginate su minecraft seriamente andare e vedere sta roba qua Cioè raga è bellissimo Non prendiamoci in giro Dai è bellissimo È bellissimo Dovete dire che è bellissimo Scrivetemi nei commenti se vi piace oppure no Dovete scrivere nei commenti che è bellissimo Se scrivete che è brutto Uso il death note eh Cioè Raga ha aggiunto uno nuovo Raga Ha funzionato Forse allora questa la lava si vede Direi anche fin troppo E guardate Guardate si vedono i blocchi così tutti quanti luccicanti Oh mio dio Ancora ne voglio Ne voglio assolutamente ancora Adesso voglio capi No raga guardate Oh mio dio che bello Questi sono i lapislazzuli tecnicamente Non capisco nemmeno se sono lapislazzuli o diamanti Ok sì questi sono i lapislazzuli E guardate come luccicano Però questi sono i diamanti Per me sono più belli i lapislazzuli Con questa versione no Dai si potrebbero utilizzare anche come Tipo Blocco da costruzione A punta però Perché ho detto a punta? Scusate Forse sono troppo fissato con le cose a punta In un qualche modo Non dovrei più ripeterle Perché sennò poi dopo Potrebbe succedere qualcosa Tipo che la polizia mi arresta No dai sto scherzando Ma cosa sto dicendo pure io? Cioè sono impazzito Allora però adesso posso andare a vedere altre cose Come Così Ah giusto il nether Il nether Allora praticamente prendo Questa cosa così Faccio un bel grande coso E Per favore Cosa stavate pensando? Per una volta che non intendevo quella cosa Maledizione Cosa? Perché andate a pensare proprio quello eh? Mannaggiona Allora Guardate qua i riflessi Che in realtà voi non so se lo vedete proprio bene Perché Forse è un po' più satura di quel che dovrebbe essere Vabbè Entriamo Costruzione del terreno E no 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 però non vedo un cavolo No non vedo un cavolo Non vedo Ah Sto per vomitare Bene Sto per vomitare ancora di più Non vedo più niente Aiuto Dove sono? Ok Allora Andiamo da questa parte Ah prima di tutto Mio dio che bello Cioè dai Che bello Ok Già qua eh È proprio brutto Ma qua raga Madonna mia Non si vede niente Non si capisce niente Ma che cos'è? Ma non si capisce niente Signori come fate? Aiuto Niente Devo morire scusate Niente Mi dice che non posso uccidermi Quindi evidentemente Mi dovrò buttare nella lava Oh yeah E sono morto Adesso posso rinascere E come vedete È molto diverso rispetto a quello che avevo messo io Vedete? Perché Ha pure queste cose Adesso non sbrillucica più effettivamente Però è diverso E abbiamo altri tipo di shaders Aspettate aspettate Voglio vedere l'acqua Scusatemi ma troppo bella l'acqua Ti prego Voglio ancora Voglio altra acqua raga Allora Questa cosa Cioè su minecraft Bedrock edition O comunque su quella del computer Quello che si prende direttamente dal play No eh sì Dal microsoft store Invece Perché si vede così strano? Avete visto? Era tutto quanto strano Guardate Eh ma perché questo è il ray tracing Vabbè Invece Eh Su minecraft normale Esistono Ma penso che si debbano pagare Alcune Non lo so esattamente Se quali esistono Quali non Però guardate sott'acqua Cioè guardate che bello E poi guardate se io Aspettate aspettate Devo scendere Guardate se io Vado a vedere da qua sotto Cioè si vede No vabbè Si vedono i riflessi pure No che bello E non ho capito Perché questo coso Deve essere viola Non ho capito Questa cosa ha fatto Cioè io non lo dico spesso Ok Non lo dico spesso Però È veramente Un posto Affascinante Credo che si dica Per le persone Questa parla Non lo so Comunque Vado a cambiare shader Accidenti Mannaggia Dannazione Anche questo è più o meno Come l'altro Cioè nel senso Si riflette Tutto quanto Fin troppo Devo dire Perché sembra Tutto quanto Fatto di vetro Ma è appunto Per far vedere La bellezza Del RTX Del RTX Non so che caspita sia No Che bello La sabbia Aspetta Però io voglio fare Un'altra cosa Ah giusto Praticamente Vado qua Devo andare Su video E poi Qui Posso aumentare Un stacco Il Ray Tracing E probabilmente Adesso mi esploderà Il computer Però ne vale la pena Oddio Beh in realtà Non è che cambi Proprio chissà quanto Però no Forse cambia A livello di distanza Vediamo un attimo Perché tecnicamente Quelle E beh sì E beh sì E infatti adesso Il mio computer Sta esplodendo un pochino E sentitelo Come chiede pietà Sentite Ah Dunis Ti prego Basta A fare questa cosa Fa proprio così Ma scusa Adesso te lo tolgo Te lo tolgo Assolutamente Ma guarda raga Guardate là Guardate Si vedono tutti i riflessi Ma tipo in lontananza Mentissimamente Tanto Voglio Entrare in questo mondo Voglio viverci Voglio leccare tutto per terra Praticamente Vabbè Fatemi sapere Se volete vedere altri Di questi tipi di video Che io li porto tranquillamente Guardate la mia schina Aspettate Aspettate Guarda Ah sì Proprio Ah che bello Ovviamente ve ne porto altri Se volete Scrivetemelo nei commenti Chiaramente E mettete una F Per il mio computer Perché probabilmente Dopo questa Non ce la farà Proverino E mi sa che qua È finita per lui Però vabbè Nel senso Ce ne saranno sempre Di altri Mi spiace Caromia Hai fatto il tuo tempo Adesso Non morire Per davvero Però Per carità Lasciate like E iscrivetevi al canale Grazie Ciao